Come sempre è l'occhio tanto Abruzzo nella Tirreno Adriatico? Sì, ormai è una caratteristica delle nostre corse di RCS sia dal Giro d'Italia che la Tirreno Adriatico la fa da padrona tra virgolette la provincia di Teramo che ci ha creduto e ci crede ancora nel nostro sport e soprattutto nella Tirreno Adriatico che vedrà due tappe con due arrivi e una partenza sicuramente protagonista di questa corsa.